Anche a Racalmuto gli esercenti si sono mobilitati per chiedere di ripartire, ma anche per ottenere un aiuto concreto in termini di liquidità, imposte e costi sostenute da sostenere per superare la chiusura forzata, che nel caso dei ristoratori si potrebbe protrarre fino al primo giugno. Ieri sera, a partire dalle ore 21, i commercianti cittadini che hanno aderito alla manifestazione nazionale Risorgiamo Italia, indetto da Oreca e aderenti all'associazione Food & Beverage preseduta da Sergio Schillaci, hanno dato vita a un pacifico flash mob nelle varie attività commerciali. I titolari hanno acceso le luci e le insegne, decorando le vetrine con foto e messaggi per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni a partire dal governo. Invece di abbassare le sana cinesche, come avviene di solito nelle proteste dei commercianti, noi le abbiamo alzate, invitando il governo a prendere subito in considerazione misure a sostegno di uno dei comparti della nostra economia tra i più strategici, onde evitare che tanti di noi non avranno più la possibilità di alzarle di nuovo perché falliti. La manifestazione è stata documentata in diretta attraverso video e foto. E questa mattina, intorno alle 11, infine il presidente dell'associazione Sergio Schillaci e il suo vice Salvo Sardo si recheranno al comune di Racalmuto per consegnare le chiavi degli esercizi commerciali al sindaco Vincenzo Maniglia per ribadire l'allarmante situazione che sta vivendo tutto il comparto della ristorazione. Con l'auspicio che la coesione, la forza e il coraggio accompagnino sempre questa lodevole iniziativa Uniti, si può far tanto in ogni circostanza e tendendosi la mano ci si sostiene a vicenda, teniamolo sempre presente ed impariamo una volta per tutti a fare squadra per difenderci e difendere questo nostro paese, tutte le realtà che ospita e tutto ciò che Di Bello può raccontare. La cucina, il cibo, specialmente dalle nostre parti, i nostri paesi e anche cultura e socialità in modo di stare insieme, sia pure con tutte le regole vecchie e nuove. Tenere chiusi i ristoranti, tenere chiusi i bar, tenere chiusi tutte le attività sociali, anche in un momento di distanziamento sociale, rischia di diventare, sta diventando un problema innanzitutto economico ma anche proprio per la vivibilità di luoghi, di centri, di paesi, di quartieri, di città. Quindi io sono dalla parte di chi in questo momento chiede una libertà responsabile, un commercio responsabile, una ristorazione responsabile e capisco benissimo che sono dalla parte di tutti i ristoratori, gli esercenti di Racalmuto e di tutta Italia che stanno soffrendo in questo momento moltissimo e sono d'accordo con la loro protesta, perché è una protesta ancora una volta civile.